Buona giornata! Non giudicare ciascun giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. Robert Louis Stevenson. Questa frase è fondamentale, è fondamentale per la tua felicità, per l'aggiungimento dei tuoi sogni, per la tua pace, per tutto, per la tua vita. Non giudicare ciascun giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato, in modo di che quei semi che oggi hai piantato e che quindi oggi non ti hanno dato un raccolto, domani ti daranno un raccolto bellissimo, grandissimo, solo perché oggi ti sei fermato e ti sei messo lì a piantare quel seme, a fare quella cosa, a iniziare quel piccolo percorso che oggi sembra una piccola cosa, che oggi sembra che non sposti niente, ma domani vedrai che sposterà le montagne, che sarà una cosa bellissima e sarai felice oggi di essere stato lì a piantare quel seme, quindi mi raccomando oggi pensa a quali semi puoi piantare. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.